Le cose che sto facendo Ho dovuto anche iniziare la stagione un po' con calma, un po' diversamente Perché la scorsa era stata super pesa, quindi ho cambiato alcune cose In più ho fatto delle gare in mare, anche quelle molto dure, devo dire La verità in inizio stagione non sono riuscito a fare quello che volevo fare nelle gare in mare Però c'è tempo, adesso a maggio avremo un altro tappo di Coppa del Mondo Quindi il calendario è pieno, devo solo stare tranquillo e lavorare in pace E poi verrà cosa fa Sì, no, sicuramente, ci sono tante tappe Adesso 7 golli stavamo anche valutando di fare un'altura proprio a ridosso dei mondiali Quindi, insomma, dipende Però ci sono tante cose, le voglio fare bene, voglio preparare il mare, voglio preparare la piscina E delle volte la coperta è un po' corta Cioè devi, insomma, calibrare bene le energie